ok quindi dobbiamo andare al complesso di OIT che è lì allora direi che andiamo al complesso mi piace andiamo ad uccidere un bastardo ok ciao zio ho appena fatto saltare un sacco di tizi come te carica ricarica niente soldi soldi qualcosa da mangiare va bene kit nice ah è vero vediamo se ho qualche foglia yes yes perfetto serviranno ok sono un po sadico lo so comunque andiamo al complesso ciao zio non provare a guardarmi ragazzo ma se sei brutto eh ciao sam ok amico ti senti pronto o ti serve ancora tempo una volta che iniziamo non si torna indietro va bene si procederò però dovete darmi 30 secondi perché me la sto facendo sotto onestamente devo andare in bagno quindi torno subito ok ho un coltello nascosto nello stivale tu distrailo quando dico affare fatto ok capitale ok benvenuti ragazzi entrate entrate sedetevi oh cavolo è pieno di guardie ma cinque carte va bene si che cosa posso offrirvi volete qualcosa da mangiare delle noccioline si dai no perchè no bisogna sempre uccidere qualcuno a stomaco pieno chiedi a qualcuno per strada e ti dirà che è un gioco d'azzardo oppure parla con sam e ti dirà che è tutto un blef vero sam ya ya ma non lo è vero si tratta di farti giocare finchè il banco non vince lol dico che rilancio io vedo io guardo la mia mano prima di tutto c'è che 10 andiamo a vedere ok dammi le carte oit la partita poker di una vita uh 10k coppia di 10 no guardiamo ancora ma si dai andiamo a vedere vedo tutti vedono bene 7 chip chip rilanciamo un po' no non posso rilanciare vabbè chip chip e chip anche lui tutti chip mmm e chip all in io vedo io vedo io vedo oh cazzo yes Oh cavolo Lol Oh cavolo Sam è morto Jason Brody, come cazzo ti chiami non me lo ricordo Ma quanto pensi che sia stupido Giochiamo, ti va? Carte a sinistra, giusto? Oh cazzo Mi sa che salta il giro Oh fuck Allora ho visto la tua scenetta commovente con Riley Mi è scesa una lacrimuccia Beh non è certo da me Lo ammetto Ti ho sottovalutato Che carte ho? Falturare tuo fratello Distruggere metà del mio business Fuck Ok Mi gioco la vita Oddio La mia vita su un cazzo Su un coso di poker Al buio senza aver visto le carte No Oh god Ma Le cose vanno come vanno, vero? Io ti perdono Ah si? Certo Come no? Su Dimmi qual è il tuo prezzo Tutte ne hanno uno Voi siete solo burattini E noi tiriamo i fili Ah si? Ecco perché il sistema è stato ideato in questo modo Si fotta il sistema Si fotta si Mi gioco la vita Go Di nuovo Perché continuiamo? L'ho già vinta la mia vita God c'è un colore in tavolo Oh fuck Oh god Scala Scala Reale No non è scala reale Oh fuck Non lo fare Non lo fare Forse inizierò con Con l'anulare Che male Che male Oddio E le guardie Non credere che la cosa mi piaccia Dico sul serio Non servono dieci dita Per usare un coltello Faccio questa roba Da prima che tu nascessi Ah si? Guardi sotto vecchio Go Andiamo vecchio Wow 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 Yes È velocissimo Sto quick time event È velocissimo Non hai nemmeno controllato Tuo fratello Riley Dov'è? Tranquillo L'ho venduto a un tipo Veramente speciale in Yemen Oh cavolo Mi piacciono giovani Io ti ammazzo Ho amici molto potenti Che ti troveranno ovunque Ah si? Non resterà Più niente Di te Wow Wow Oh oh E l'abbiamo accoltellato Il figlio di puttana Non puoi vincere Ho io la mano migliore E perché hai paura? Oddio Oddio Oh cazzo Sono per terra Wow Ok 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 Yes No Aia Male Dolore Perso coltello Problema Grave Oh Caltello Wow Oh Questa è cattiva Nice Ho sbagliato il Ho sbagliato il quick time event Però va bene lo stesso Cavolo È un punta spilli Sembra il pirata pazzo Quel gioco che ti davano Che dovevi infilargli le spade Se saltava perdevi Che cazzo ho fatto Mi sono anche bendato il dito Che cavolo ho fatto Come ho fatto ad ucciderli tutti E soprattutto perché ho ancora le armi Oddio adesso parlo come cosa Ciao zio Una rivista porno Bene Ah punti abilità Abilità Scusa Ryle Dovrei aspettare un attimo Ho 5 punti abilità disponibili Da quando? Forse da quando ho ucciso tutte quelle persone Può essere Quali sono i requisiti? Ah devo acquistare delle corazze Vabbè Non potrò farlo Guida evasiva Non credo servirà Lo zoologo neanche Quindi andiamo qua E prendiamo questa Ok Questo Ok Questo Ok E questo Ok E poi Questo Nicely done Oh fuck Buongiorno Il mio elemento qual è? Scudo Cavolo Ce ne sono troppi Oh zio Io più che prenderti però Ti farò sanguinare Vieni qua Aia Vieni qua Yup Sì Ciao Una macchina Una macchina Go Entra Entra nella macchina Yes Dai abbiamo 10 minuti per arrivare Alla pista d'atterraggio Go Ciao ragazzi Ah fuck Ciao ragazzi Dovevo prendere guida evasiva Lo sapevo Arrivederci Mi sparano Oh fuck Oh fuck Oh shit Buongiorno Woohoo Yeah Fuck this shit bro I'm just un brodino Oh shit Oh fuck Oh fuck Arriva che c'è un po' di fumo sul davanzale Sembra di stare in padagna Cazzo Woo Go bro go Oh cazzo Eh Elicottero Macchina che fuma Problema serio Dove cazzo è la pista oltretutto È qua di fianco a me Ok Eccomi Motherfuckers Io non muoio urlando Grazie No l'ho mancato Non ci credo E questo era preso in piena Oh Fuck Ok Uno lì Come fanno a sparare Ah l'elicottero Ok Devo far secco l'elicottero Cavolo Curati 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 Crepa Vi prendo tutti A manganellate Cazzo In realtà sono coltellate Però Ha ucciso Ho ucciso anche tipo 8.000 di voi Fuuuuck Fuuuck Urami Devo andare a quel cazzo di aereo Dov'è? Sta lì Ok Beh non ho più il tempo però Basta Ok Arrivo Sono Brodino Ah Non ho più razzi Uh qua c'è l'aereo Cerca Riley Sarà lì dentro Cazzo da lì non sei morto Muori Fuck it Yes Ah sta suonando l'allarme Fuck Bravo avanza Ciao Ciao E ora facciamo saltare l'allarme Oh Grazie Allora Su di qua Ok Dove cazzo arrivo io Riley sarà in uno di quegli edifici Sì Ti sento Riley Non gridare come una femminuccia che Mi fai perdere La credibilità davanti ai miei amici Allora Oh fuck Riley sarà in uno di quegli edifici Allora Sì sono il traditore che ha ucciso No sei uno stronzo Yeah Così Ciao Riley Sarà tutto una registrazione Vuoi vedere? No è lui Ok Go Stai giù Riley Yep Oh fuck Vieni il fuoco Scusa Riley eh Wow Fuck you Uh elicottero Nice Lo sai pilotare? No Ma se hai il brevetto di volo Sì ma per un aereo È ora di imparare Lol Oddio Oh fuck Sali 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 Oddio La musica delle Valkyrie Tanta roba Non vi vedo Ciao Ciao Fallo Fallo alzare Riley Yeah La distruzione Fuck Stai zitto Riley Non ti preoccupi Usa la forza Riley alzaci però Credo di avere imparato Ah sì Sì Addio Trazione Integrale Yeah Yeah Vai lì Ci spara Yes Tutte le esplosioni Di questo mondo Saltati Yeah Bravo Riley Beh lo stai guidando bene però L'epicità di questo Riley Quella è ancora la base Ma stiamo scherzando Oh fuck Riley se non mi parti a vista però Oh Yes 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 Vedo che potevi anche andartene Riley Just saying Oh fuck Oh fuck la musica è stata perfetta spara i jason yes e due sono giù ora manca solo quello bianco dai dai tienilo stabile eh no eh non si spara in elicottero yes si non proprio grazie grande riley così ti vogliamo scommessa contro il banco signori uh yeah oh cavolo aspetta qui oh cavolo no il dottore fattone dottor fattonium ci parli dove sono dove sono i miei amici sta morendo li hanno presi i guerrieri della della giungla mi dispiace hanno portato i tuoi amici al oh cavolo no li vogliono sacrificare no 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 io sono contro il sacrificio umano in ogni sua forma e o dimensione devo andare al tempio riley dobbiamo andare ora nice fammi vicino riley siamo già arrivati ehi 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 i miei amici ragazzi scelte difficili dove cazzo sono tutti ho un punto abilità due punti abilità spendiamoli prendiamo questo e poi prendiamo questo dai non so cosa prendo onestamente quindi prendo quello oh ho il tatau quasi completo che figata ehi dove sono i miei amici sitra cosa hai fatto i miei amici sono felice sei tornato vittorioso ehi dove lo stai portando che cazzo tu sei poison ivy lo sapevo guardati forte grande potente perché mai vorresti tornare come eri prima che cazzo tu sei perfetto ah ti piacciono le cose sado eh è tutta colpa mia no la vasella no cosa sbaglio non farlo ti amo Gesù ma tu non vuoi ricevere tutto il mio amore l'ho già ricevuto tesoro mi fa male vederti soffrire setra tu sei una puttana pazza voglio soltanto aiutarti amarti per quello che sei venerarti come l'uomo che sei diventato tra poco sarà finita ti condurrò sull'altare e ti libererai del tuo passato e poi sarò tua oh cavolo la fico gli amici bros before hoes si fa così mi dispiace mi dispiace sitra gli amici prima delle donne no per niente bros before hoes boys cazzo nessuno sa fare dei nodi in questo posto però eh è libero che cazzo hai legato a fare percorri la via del guerriero oh fuck trip mentale solo il più forte sopravvive con iracchia dai il potere come chiede il problema di te estremo trip mentale portano via la gente non la riportano indietro è vero ma che guerriero che sei avrai ucciso massa alle spalle eh non è vero ho fatto una cosa fighissima per uccidere massa possente guerriero tu meriti l'ultimo tatà oddio cadranno tutti ai tuoi piedi oh fudge ti porti in giro tutte quelle armi e hai quei tatuaggi strani ti credi in quel rieso solo perché ti segui ai piedi ai tuoi piedi li scanzendo jesus oh cavolo wow sono tua lo siamo tutti questa è la tua isola oh fuck lisa quando è incazzata è tremenda i tuoi progressi i tatau tutto ciò che hai fatto verrà cancellato verrà cancellato no aspetta mi cancelli tatau sei brutto guerriero ecco la tua lama ah dio scelte amica mia mi dispiace ma seriamente cioè è un bellissimo coltello è tutto però no jesus mi prego no ti prego no ti prego oh cavolo fanculo bros before hoes jesus jesus perché devi andare non sarai un guerriero un eroe i tuoi amici andranno avanti avranno figli e vite noiose resta qui la giungla sarà per sempre tua nice jesus così ma io posso rimanere anche senza di loro ma io posso rimanere anche senza di loro la tua forza è solo tua lo so jesus io ti amo jesus che cosa stai facendo citra ha salvato me ha salvato tutti quanti e tu rifiuti il suo amore denis oddio oh fuck no citra 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 oh cazzo mi dispiace oh fuck denis che cazzo hai fatto sei ubriaco di nuovo cosa ho fatto che cosa ho fatto citra citra ti prego non mi lasciare fuck citra mi dispiace estremo mindfuck citra ti prego non mi lasciare oh fuck io sono senza parole ehm ne ho uccise così tanti che ho perso non posso tornare indietro sono un mostro sento la rabbia dentro di me eppure 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 dentro di me c'è dell'altro sono meglio di così bene ragazzi questa questa è la fine di far cry 3 è stato un trip di solito dico che è stato un viaggio questo è stato un trip un vero e proprio trip mentale però credo che questo possa definirsi il mio gioco preferito del 2012 perché l'ho iniziato nel 2012 ed è uscito nel 2012 quindi per il 2013 non posso parlare però è assolutamente un qualcosa di straordinario è stato un piacere vedere che tutti voi avete reagito così bene a questa serie e che altro dire se volete dirmi che altre serie vorreste vedere io ne ho già in mente un paio comunque sia c'è sempre la pagina di facebook che troverete nella descrizione per twitter invece iscrivetevi a twitter ragazzi perché twitter è uno strumento fighissimo e soprattutto vi dirà ogni volta che esce un mio video appena esce vi dirà che è uscito quindi potete vederli anche perché i feed di youtube non stanno funzionando così bene ultimamente e niente io sono onestamente credevo fino all'ultimo che sarei rimasto con sitra personalmente proprio come per il mio modo di giocare e poi il gioco mi ha fatto cambiare totalmente idea nel giro di una missione cioè che non era neanche una missione poi era un quick time event alla fine uccidere o rimanere con gli amici boh secondo me ho fatto la scelta giusta e non lo so niente scrivete un po' cosa ne pensate di questa serie sotto nei commenti io lascerò finire ovviamente la sigla per vedere se c'è qualcosa dopo così almeno ve la farò vedere per il resto il mio nome è come sempre quit108 ciao a tutti ciao a tutti Grazie 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 a tutti